Musica Signori benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio di Leggiamo a Cose su Rombosix Siege Oggi ragazzi torna Ray the King Con un video con scritto quanto manca al diamante Lo vedo specialmente perché mi hanno detto che in questo video mi nomina Comunque parla di me, parla... non lo so, succedono cose Io non mi so spoilerato un c***o Mi piace, un commento, un'inscrizione Vi ricordo che vado in live un gioco su Twitch Quindi ci poi tenendo bene che qui c'è la chat che vi sta salutando Ricambiate, inoltre vi ricordo che faccio coaching privato Quindi se volete informazioni per migliorare con me su Rombosix Siege Mi iscrivete in privato su Instagram, ma che belle do E ora andiamo col video 3, 2, 1, let's go guys E' arrivato il momento Sì Sì Penso che ci saranno 15 censure Per questo vi chiedo proprio una fracca di like ragazzi No vabbè, ma quanto ne sai? Ma quanto ne sai Raid, madonna A pacchi Allora Cazzo di meglio a te Allora, difesa Outback Ok Può fare la rotation? La rotation Stanno già a pushà Faccio i corci 4? E' un problema questo Ma dov'ha tirato l'ascia, regà? Sarebbe una vole Ma regà, ma là Ah Finchè, è tutto aperto ragazzi Difendere piano è impossibile Tutto aperto Ma estrai Ma estrai Ma estrai Ma estrai Ci ha provato Nessuno copre scale La cosa bella è che c'è pure la gamma Bravo Giru Bravo Conte Io continuo a non capire comunque il ciondolo del conte ragazzi Cioè? Che ciondolo è? Che ciondolo? Non c'è dalla finestra Sì, il conte è tuo Te lo mangi Ma perché si salvano il KD? Ragazzi, non li capisco Quelli che si salvano il KD Impazziscono Non li capisco Ce la posso fare Si Pre di boda mi hanno briciato Bravo Non si vede la sua cam Avete ragione, avete ragione Scusate Avete ragione Quando avete ragione Avete ragione Cioè, va bene, va bene Va bene E qua, è qua, è qua Guardate che bel baffo Scusate, veramente Manca a far così tanto Non ha fatto niente Non ha detto niente Dai, non cacate il cazzo Basta Basta E qui, dai E qui Ok E lì E qui E lì E sì Dove ci riuscite? E che cazzo Avevo sempre ragione E vabbè Come l'80% di italiani Che vede di avere Ce ne sento Ma Ram stava alle altre vertiche Stava Occhi punti Sopra Oh, ma tu devi uno C'è te Che penso Scappo Vediamo Ragazzi, stai in super unità Cioè, il defuser stava lì Bravo, imperatore Bravo Bravo, bravo Ma che maglietta c'ha per due È strana, è strana È molto americana Non ci credo Morto Ma quello messo lì, poverino Ma in che se Fuori bridge ragazzi, occhio Madonna, quanto picca È un pazzo assassino No, ragazzi Di quanto non l'ho preso Fuori garage ragazzi Allora, è stato proprio l'avversario A calcolare i colpi Ha aspettato un attimo E poi ha piccato È stato bravo Sono cagato in mano Leo, gira la gambe Toro Gira la gambe Toro Leo, gira la gambe Toro Le Ox È uno qua Uno Toro, Ascia Cioè, te sta a plazzo dietro L'imperatore Arriva a porta di Toro Ce n'è un altro, eh In cinque Porta, porta al lato a sinistra Maestra, hai all'aghi An luco Addirittura Col montagne C'è una tattica Leo, al mio tre Vai a sinistra Uno, due, tre Vai a sinistra No, di quanto Aspetta Era carina Era una tattica carina Certo Dovevo aspetta mezzo seconda in più Di facciamolo All'aghi, all'aghi Peccato Beh, che fa Devo far rifare Si, non penso È un coglione, ragazzi Ci sta, ci sta Vabbè, ci sta Scusami con te Ci sta Aspetta tu Sì, il frato Il frato Che culo Che culo, raga Che è passato Davanti Calmo, Leo Aspetta 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 Fai dronare Fai dronare Questo rank Ci sono i capcan Io Non esiste più Capcan Spannano tutti Guardalo Guardalo Dove è bandit Non ho capito Lascialo sotto Lascialo sotto Bello Bello Occhio 23 bombe No, Leo Non puoi modificare Come cazzo Mi capo Non è spot 3 Non è spot 3 Bomba Bomba Calmi Ragazzi Fate una culo per volta In bomba In bomba In bomba In bomba Il video di domani G4 qua De chi è? Ti rispondo io? Ma capo Ma Addirittura Scopato Annichilito No, ma che è là sotto La porta è arrivata Ah, la che è per montagne Ragazzi Potresti smettere Di prendere Questo cazzo Di montagna Per favore Leo Venirla Buongiorno Come va? Alla Che Timing Un po' particolare Leo con le armi Si L'ha arrestato L'ha arrestato Senti Ma io ce lo lascio Il drone per sicurezza Emperato Vedi un pochettino In qualche modo Dove levo Dove Sotto le vertigo Ok Levo ragazzi Non ce la fa più Leo Leo Sto tiltando Tiltatissimo Il primo donna Di raid Si si Li vediamo quasi mai Grazie Mazzare Polizia Agua E' chiuso Namo a plantà Namo a plantà Namo a plantà Sì Sto un attimo Mando al drone Mando al drone con il doio Mando al drone con il doio Tu conti Mando al drone con il doio Due di tre Un po' particolare Qua situazione Un po' Così Molto negativa Eccolo Vai Ce la vedo Ce l'ho io Vai E' ripirla Aspetta Aspetta Ah va bene Va bene Ci sta Il try Preso No Esce Fatelo Fatelo Ha avuto troppa fretta Ha fatto bene Asami Dove un attimo Chillare Perché è uscito Pure un po' Troppo Pure dal pick Se vedete qua C'è comunque Lasciando il fatto Che ha smirato leggermente Ha pure piccato male Qui Va bene Su Asami Guardate qua C'è E' un po' troppo uscito Doveva stare molto più safe Eh sì Fatelo 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 Con Eh Tutto 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 Ma è stra Vabbè Allora Che dai Che palle Che palle Dovevo fa Stronzo Eh ma di più Che palle Dovevo fa Bendy Cioè Bendy C'è Bendy No Imperato 4.5 Imperato Guarda il drone sotto Sparate No Ma da dove è arrivato Madonna ragazzi L'hanno laserato Ah ma da sopra L'hanno laserato Bravo Leo E' fatto quale ragazzi Che Secondo me Montagne ormai va bene Ci sta a usarlo Sono pure un team E' stato baffato E tutto Però lo sta usando male Lo sto usando Secondo me Molto vecchio stile Senza Il buff Che gli hanno fatto Quindi senza Che puoi correre Puoi dare lo spintone Sì Lo usa molto La vecchia maniera Sempre Full Con lo shield Ormai non si usa più così Bisogna un attimo Evolversi Ecco Vedete Bisogna essere più aggressivo Con montagne Troppo poco tempo Lui lo sta giocando Troppo Si vede Che non è proprio Quattro round di fila Su outback Regà Che cazzo era Un abbracciato Un abbracciato Che palle Sono morto Due volte come prima Santo Dio Ram Corridoio E lo sapevo pure Perché mi ho pure sparato Conte Corridoio E qua ragazzi Qual è il problema Un abbracciato Un abbracciato Qua Cioè ve lo faccio rivedere Qual è il problema Secondo voi Un abbracciato Che palle Qua è pure Allora il fatto Che lui si sia abbassato Può sembrare stupido Ma gli ha distrutto Mezza la mira Ok Perché si è abbassato Si muove troppo Era abbassato Doveva stare in piedi Con la mira fissa Invece si è abbassato Ha perso la mira Infatti avete visto Che ha fatto Destra sinistra Con la mira Ed è successo questo Più cose fatte nel gioco Peggio è Perché Rainbow È un gioco molto Chill Con i tasti Cioè deve stare calmi Concordo sommo Allora Vediamo 2-2 Addirittura la bestemmia Ma è complessivo Magnello Basta che Hai 2 ore in totale Bagno è pulito Cioè Deve lo devi sommare E bagno non arriva nessuno Plantano Complessive tutte le live Che guardi Capito Cioè Si sommano Vabbè che lo vedo Molto difensivo Quello contro Pure tipo Su finestra Bravo in fondo Ok ok In dormitorio In dormitorio Dietro il letto Spot 2 Dietro il letto In spot 2 Imperato Ti picca? Ah E tu lo sai Bravo 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 Se l'ha rischiata Però bravo Aspetta Donate voi dentro E lascia il tuo 4-4 Imperato Come prima Zizi vai finessa Zizi Vieni qua Ma frate No bagno ce l'ho io Bagno ce l'ho io Ok Ok Mettete picca Rodation Esatto Ma non ho briciato? Penso che si Beh vedete ragazzi Cioè Qual è il problema? Qual è il problema chat? Esatto Cioè Vedete questo Kestel Ora io ve lo chiedo Ma non è a favore Di loro Degli avversari Il Kestel Voi siete Kestel In difesa Loro sono attaccanti Non è a favore Degli attaccanti Sto Kestel Capite perché vi dico Che Kestel Penso sia veramente Uno dei più difficili Da usare Perché se lo usate male Rovinate il team E favorite Quell'avversario Qui Loro Sono sicuri Che non arriverà Nessuno Da rettili Dal passaggio Dal corridoio Quindi è un Pic Che loro Non vedranno mai Non Piccheranno mai Non sono Sono sicuri Che nessuno Verrà mai da lì Perché è come se ci fosse Un muro Ok Ed è una cazzata Vedi che è bello tranquillo Che a destra Non gli può arrivare A nessuno Perché tanto Cerca Estel Bravo Qui dietro C'ho bagno io Fermi Fermi così Fermi così Si tengono rettili Sì l'ho visto Come si è ottenuto Il rettili Da dietro Da dietro Vedete Si tengono rettili No Quella dietro Al kestol Ha dovuto rompere Il kestol Per ammazzare lui Poi è stato un attimo Lento con la reazione E ci è comunque Riuscito Ha dovuto rompere Il kestol Ok E quello è il fatto Perché si fanno Rotation Su rettili No No perché La rotation Comunque Rispetto al Kestol a destra Messo O non messo E comunque Peggio Perché Dai Agli attaccanti Una sicurezza Un muro E La rotation Che tu fai Dove tu dici In rettili Dove è uscito Lì il bandit Saltando E' quasi attaccato All'altra rotation Che si fa Quindi lui Tranquillamente Se mira rotation 1 Mira velocemente La rotation 2 Facilmente Rispetto che Girarsi a destra Corridoio Kestol porta doppi Era tappato E' una merda Ragazzi Sta strat Poi Kestol E' stato bravo A rompere A ammazzare quello C'è ammazzare lui però Uno Planta Leo Planta Leo Ok Regà Regà Bravo Giro Calmi Esci Contessi Contessi Sitti Sitti Gioia di cuffie Scale Scale Ciru Scale Ciru Scale Sì Sì Ah non hanno tempo Hanno vinto Comunque GGS Bravi 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 Vabbè Si sta cagando addosso Smeraldato Si è parellamente Cagato addosso Allora Faccio il volo Stagillo Ma perché non c'è Mai nessuno Da quando me l'ha detto Rage 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 Allora Faccio il volo Stagillo Perché non c'è Mai nessuno No quando me l'ha detto Rage Rage C'è uno in pieno forte Oh Gesù Oh vallacchi frate E che te devo dirci Vanna così Ti ho distrutto la strada Ragazzi Gliel'ho annichilita C'è un angolo morto Un angolo morto pure Ragazzi Ho visto il Rage È proprio incazzato Lersh Proprio Ma quando me l'ha detto Rage Figlio Di Rage Si è ancora là Conte Oh Gesù Aspetta No andando via Che sono preso A terra A terra Bravo Bravo Che lo dovete fare Che andrà No no Non è che sbaglio nel nome Rage È giusto Ragazzi Mi potete chiamare Oray 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 Che sfiga Orv Eri to guard Uno che sale Rega Giava Ha già Mi morto Ho fatto doc Ho fatto doc Ho fatto doc Bravo Ho fatto work Bravo Ho giocato bene Bravo Giru Potete breccia Potete brecciare bianche È seguito che sto nel rosso C'è uno C'è uno albero di Natale Quali degli alberi di Natale Ah quello sotto Ah no C'è il mute qua In spot 1 C'è il mute in spot 1 Conte me lo copri Poi con la flash è bella easy Che vedo con la ristorante Arrivo Bravo 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 Giru Qua stanno Qua stanno Stanno cercando bene Allora Gli avversari Non stanno riuscendo A tenere Il La pressione Ragazzi Giochiamo sempre aggressivi Così fidatevele Vince Vinceremo Tutte Allora Non stiamo capendo ovviamente Perché lui taglia Perché il team avversario Non sta riuscendo A tenere A mettere in pressione Loro Perché pure ora Erano tutti sopra Senza nessuno degli avversari Magari che li beccava Bisognerebbe capire Se loro sono stati bravi A coprire O gli avversari Che magari Sono troppo passivi Dine mamma Ti è sorda Prostitato Proste Popo che è morto Allora 3,2,3 Si sta facendo tutti ragazzi Dove È vero Si ascoltava bene il tuo video Quando si buttava la botola Sparava È vero Quando salti La botola Ma già si vede Che non guarda i miei video Perché si è ributtata Sta merda di vetrata Cristo Dio Il caio planto Ogni volta che si butta qua Mi piange il cuore Ciao Lange Come va? Lo so Lo so Eeeh C'è E bagno Sì sì Ma l'impatto blocca Nel plant E ma devi andarci tu Signor Rade Sempre Ti va al cielo E andarci tu raid Il caio non posso Aspetta Eh aspetta cosa? E che devi aspetta E vai Vabbè Quello è un coi... Allora vedete Allora vedete qual è il problema Vedete qual è il problema Allora qui Loro I difensori Erano in vantaggio Perché gli attaccanti Non sapevano che fare E stavano temporeggiando Che vuol dire Che stavano perdendo tempo Che vuol dire che Erano nella merda Cos'è che ha fatto l'attac... Il difensore Ha pusciato Si è mosso Sei un coi... Perché ora gli ha dato il vantaggio E ora magari lui Picca Se si faceva i cazzi suoi Campava cent'anni Tu sei difensore Stai fermo Finchè non senti il plant Ma che cazzo vai? Ma rovai? E invece Eccolo qua Il grandissimo Wamai Dov'è? Dov'è? Si è spinato È in bagno Provo Ma che cazzo Ah regà Mi dovete aggiornare un attimo Ok Stavo passando Stavo sul tetto Ok Fermo come di Lorenzo Contro la Spagna Non ci credo Alla chi fra Alla Ho capito che voleva fare Alla chi Io lo aspettavo L'indice a set Potresti pure Pingarli Bomba piccola Conte Bravo L'hai sciolto Sta giocando a bronzo No Sta giocando a Smeraldo Dato Aspetta C'era Tu qua Ma non devi usare questo Bravo Conte Se ti pushano da B Lo abbiamo noi Dato Bravo È glazia Uno vive Zitti Zitti regazzi Ho fatto la festa Bravo Mostro 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 Adirittura Ragazzi Questo è già Quasi levante Impazzisco Passo sgravato Raid Stai andando come il vento Regà Quanto ne sta vincendo Non so quanto gioca A pure il team Bravo Bravo Vorrei dare Prendici sto champion Così Best time Pazzisco Gigi Ragazzi Gigi Pazzis 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 Grazie a tutti.